Ben trovati a questo nuovo video in cui andiamo ad analizzare alcuni movimenti che ci porteranno poi all'esecuzione delle tecniche comprese nel primo catalogo di tecniche del Daetoryu Aikibudo, quindi parliamo del Ikkajo e in particolare oggi vedremo il movimento delle gambe e del corpo che ci porterà all'esecuzione di Kirikaeshi. Partiamo con una posizione Shizentai, quindi guardia diciamo naturale, i piedi sono paralleli tra di loro, iniziamo a spostarci verso sinistra con la gamba sinistra, portando entrambe le braccia verso sinistra, recuperiamo la posizione con la gamba destra davanti alla gamba sinistra, ci spostiamo verso destra con la gamba sinistra effettuando una torsione del corpo, quindi questo lavoro qui. Facciamo solo la prima parte del movimento di Kirikaeshi che ci serve poi per andare in adesione a Oche, quindi Ich, Ni, Ich, Ni, Ich, Ni, Ich, Ni, Eseguiamo al contrario, quindi andiamo verso destra, gamba destra verso destra, entrambe le braccia vanno verso destra, recupero con la gamba sinistra, passo con la gamba destra verso sinistra effettuando una rotazione del corpo. Mi 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 San 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 Chi He 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 Go 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 Bene, ho effettuato solamente 5 ripetizioni, ovviamente come sempre in base al tempo e allo spazio di cui disponiamo possiamo aumentare le ripetizioni, possiamo fare dei movimenti più ampi, possiamo andare più veloci, insomma regolarci sulla base delle nostre possibilità. Vi auguro buona pratica, rimango ovviamente a vostra disposizione per eventuali commenti qui sotto il video o tramite la chat di Whatsapp e intanto arrivederci alla prossima settimana.